Musica Lasciamo da parte per un momento Ogni idea preconcetta Quale forma esso ci mostrerebbe? Quale forma? Una volta hai detto che il problema sta nell'inconsistenza del sole Sì, sì, l'ho detto, è vero Dillo con parole tue Il sole deve stare al centro poiché noi gli giriamo intorno E allo stesso tempo in un'altra posizione Visto che la nostra distanza da lui varia Sì, esatto Ma come può occupare due posizioni in una volta? Come può occupare due posizioni in una volta? Come può occupare due posizioni in una volta? Due posizioni in una volta A spazio Sì, sì E poi l'altra qui Mantenendo la stessa proporzione Bravo, molto bene Ora lega l'estremità a quella torcia Aspazio Prova a immaginare che questa sia la terra E che quelle due fiamme rappresentino le due posizioni estreme del sole rispetto ad essa D'inverno ed estate Beh, che cosa accadrebbe se tutte e due le posizioni fossero i due centri di un medesimo cerchio? Ma non è possibile, padrone No, aspetta Cosa sappiamo del cerchio? Che il centro del cerchio è sempre alla stessa distanza da ogni punto del perimetro Esatto Esatto E che succede se divido quel centro in due? Ma ciò che mantengo costante è la somma delle loro distanze dal perimetro Sì, lo so Aspetta, ti faccio vedere Guarda Se muovo quest'asticella lungo la corda Mentre un segmento si ingrandisce L'altro diventa più piccolo Quindi la somma dei due è sempre costante Lo vedi, no? Ora pensa se Applichiamo questo Al movimento Della terra Quale Figura Pensi che otterremo? Un'ellisse Con il sole Ad uno dei suoi fuochi Perché Che cos'è il cerchio? Se non un'ellisse molto speciale I cui fuochi si sono così avvicinati da sembrare uno solo? O forse sto farneticando Aspasio, voglio dire Voglio dire perché dovrebbe essere così? Magari sono Magari non Cosa ne dici? Potrebbe essere così, padrona Bene Continueremo domani Ora Va a dormire Buonanotte, padrona Buonanotte E grazie In tutti questi anni Non ho fatto che studiare Studiare senza mai avere una vita mia E mi domando A quale scopo? Buonanotte Conordino Conordino Guanson Se non può mettere due Grazie a tutti